messaggio della madonna 5 gennaio 2019 la pace miei figli amati la pace figli miei io vostra madre sto chiamando voi le vostre famiglie a dio perché desidero la vostra conversione felicità perché siano evitati grandi tristezze calamità che potranno abbattersi soprattutto all'umanità io vi parlo e vi invito a vivere verso dio e verso il cielo ma tanti di voi rimangono sordi alla mia chiamata non indurite i vostri cuori e non vivete nel peccato tanti dei miei figli ancora non sono convertiti tanti dicono che fanno molte preghiere ma i loro cuori sono lontani da dio e da me perché non pregano con donazione con amore e con cuore non ingannate a dio e non ingannatevi perché lui vede tutto lui conosce ciascuno di voi da dentro e da fuori perché vede l'interno dei vostri cuori io vengo riunirvi in preghiera perché la misericordia divina si radia sopra la vita di tanti dei miei figli e così tanti di loro imparano a donarsi e sacrificarsi per la salvezza delle anime cambiate vita figli miei cambiate vita quanto presto perché ci sono i segreti che stanno a camminare a pieno compimento e tanti di voi non sono preparati per quello che arriverà tanti saranno presi di sorpresa perché si sono lasciati vincere dall'orgoglio e dalle passioni del mondo e si sono diventati anime amare potrefatti senza vita per dio perché sono accecati da satana pregati per la conversione degli increduli pregati per quelli che si sono diventati infedeli il mio cuore materno soffre tanto a causa di loro perché non desidero la condanna delle loro anime ascoltate vi vetti quello che io vi dico e tanti potranno trovare la via santa del signore che porta fino in cielo desiderate il cielo luttate per il cielo dedicato via ancora di più per vivere verso dio e verso il cielo e non vi pentirete tornate le vostre case con la pace di dio vi benedico tutti nel nome del padre del figlio dello spirito santo amén la madonna oggi mi ha parlato che riguarda i segreti e tutto quello che dovrà succedere nel mondo e la madonna mi ha detto che noi dobbiamo essere sempre ogni giorno preparati mai lasciare la confessione da parte non lasciare di ricevere gesù nell'eucaristia ogni giorno e di adorare gesù dobbiamo adorare molto gesù perché così gesù ci donerà la forza di rimanere sempre forte nella nella sua via santa e quelli che adorano gesù sono sempre guariti purificati e rafforzati nella fede perché il signore ci dona tante grazie che cambia tutta la nostra vita e la nostra anima grazie a tutti